I cambiamenti climatici stanno influenzando il tradizionale modo di vivere delle popolazioni del monte Everest. Questo è quanto emerge da una ricerca di Greenpeace. Lo scioglimento dei ghiacciai sul monte Everest in Himalaya, dovuto ai cambiamenti climatici, sta stravolgendo le abitudini di vita dei tibetani e potrebbe minacciare la fornitura idrica per milioni di persone in Asia. Il monte Everest, che si trova a circa 9.000 metri al di sopra del livello del mare, è la cima più alta del mondo e lì vi sorge il ghiacciaio Rangbok, dal quale dipendono centinaia di villaggi per l'approvvigionamento idrico. Le acque del fiume Rangbok cominciano a scarseggiare, mettendo in serio pericolo le popolazioni limitrofe. Gli scienziati sostengono che sono molto alte le probabilità che i ghiacciai in Himalaya, fonte dei più importanti fiumi indiani e cinesi, spariranno entro il 2035, ma questo potrebbe accadere anche prima se la Terra continuerà a surriscaldarsi al ritmo attuale.